Si è rinnovato lo scorso sabato a Sulmona l'appuntamento con il Kicece che in occasione delle festività pasquali richiama nuove vecchie glorie del rugby. A scendere in campo giocatori di tutte le età dagli otto anni in su per dimostrare il lavoro incentrato alla valorizzazione dei giovani e allo sviluppo della prima squadra del Sulmona che però quest'anno non sta partecipando direttamente al campionato di C2 in quanto lo sta facendo attraverso la Tessa. Mauro Ranalli ed altri sono entrati a far parte della Tessa Rugby portando la loro esperienza. Per testimoniare la validità della collaborazione anche la Tessa ha inteso partecipare al Kicece, il presidente Mirko Cinelli. Ci siamo incontrati e abbiamo deciso insieme di partire, di fare questa sfida, di affrontare il campionato di Serie C2. Devo dire che è stata una carta vincente perché si sta rimanendo veramente una bella collaborazione che io spero che possa continuare. Siamo veramente orgogliosi perché noi di adesso abbiamo visto un gruppo vero, un gruppo che sa cosa vuol dire giocare al rugby. A noi è stato semplicemente di insegnamento. Una sinergia che sta producendo importanti risultati con la Tessa che domenica prossima disputerà la semifinale playoff contro il Chieti. È lecito come si dice, sognare, quindi ci aspetteremo veramente un bel risultato a prescindere come vada. Comunque già siamo arrivati ad un buon punto. Il dato positivo di questa edizione del Kicece, che riempie di soddisfazione gli organizzatori, è stato rappresentato dalla partecipazione dei regbisti del futuro, con i ragazzi del settore giovanile ed anche del mini rugby, che si sono particolarmente divertiti. Sì, sì, molto. Anch'io moltissimo. Ogni volta, Natale e Pasqua, io vengo sempre qui a fare il Kicece. È molto bello vedere che il mondo del rugby non si limita solo a persone della mia età, ma anche coloro che in giovane età hanno giocato in questo momento possono ritrovarsi insieme anche ai nostri amici di fuori a giocare insieme ad un rugby del nostro livello, che è molto bello per la nostra squadra. Non poteva mancare il ricordo di Franco Bonitatibus, presidente dell'amatori rugby Old Lupi della Maiella, recentemente scomparso. Avversario sul campo, ma amico nella vita, ha affermato Mauro Ranelli in rappresentanza del nuovo movimento Old Guffi Sulmona Rugby. Tanti gli amici anche di fuori regione che Francesco Bonitatibus aveva nel rugby, come Antonio Marriccio, giunto appositamente a Sulmona per giocare in suo onore. Era un grande del rugby qua a Sulmona e in tutte le competizioni e le manifestazioni che lui ha partecipato si è sempre distinto rispetto al gruppo. Una persona molto amata, molto distinta, un grandissimo cuore. Per questo io oggi ho voluto partecipare a questo incontro con gli amici del gruppo di Sulmona per onorare la sua scomparsa. Dopo le fatiche in campo, tutti a tavola per il classico terzo tempo, apprezzato in particolare dai giovani che già si stanno abituando allo spirito del rugby. Mi piace perché è un tempo dove tutti noi ci ritroviamo. Prima di tutto sul campo ci riempiamo di mazzate, però lì siamo in compagnia.